riscatto Gio Mario sì o no come sta andando Gio Mario allo Sporting lascerà l'Inter definitivamente durante il prossimo calciomercato il caro e vecchio Gio Mario ce lo avete chiesto in diversi in questi giorni nelle varie live anche e soprattutto sul nostro canale in spagnolo Passione Inter Spagnola che vi invito ad andare a visitare ad iscrivervi per avere tanti nuovi contenuti che pubblichiamo solo in lingua spagnola e ce l'avete chiesto in tanti e quindi abbiamo deciso di fare un punto della situazione su questo calciatore che ve lo anticipo subito va tenuto d'occhio perché consideriamo che l'Inter avrà bisogno di fare delle plus valenze per poter sistemare i bilanci ed evitare di vendere dei calciatori importanti rosa Gio Mario può diventare un'opportunità dal punto di vista tecnico ed economico e alla fine del video vi propongo anche un'ipotesi molto suggestiva da tenere d'occhio eh ve la anticipo e poi la terremo sotto osservazione in queste settimane perché secondo me quando il mercato comincerà a decollare tra pochissimi giorni ne sentiremo parlare prima di partire però permettetemi di ringraziare il nostro Alessandro Costato uno dei nostri abbonati sostenitori del canale di Passione Inter e del nostro progetto e vi ricordo che se anche voi volete sostenere Passione Inter eh partecipare alle nostre dirette alle nostre chat esclusive a tanti nuovi contenuti potete sostenerci potete entrare nel nostro club su patreon.com slash Passione Inter oppure su YouTube tasto abbonati qui sotto oppure link in descrizione come sta andando Gio Mario quindi e perché questa volta per l'Inter potrebbe diventare un'opportunità l'Inter potrebbe venderlo a titolo definitivo dopo una serie di prestiti innanzitutto va detto che eh Gio Mario comunque non ha sfigurato nelle sue varie avventure in prestito quindi quello che è il brutto ricordo che abbiamo in Italia in orbita inter all'estero è un po' ridimensionato anzi tra West Ham, Locomotive Mosca e poi adesso lo Sporting Club eh la squadra dove ha cresciuto tra l'altro dove è esploso prima di arrivare all'Inter non ha fatto male anzi eh a livello internazionale mantiene quindi un certo un certo appeal grazie anche all'entourage che riesce comunque a muoverlo diciamo e quindi questo per l'Inter è eh sicuramente un bene allo Sporting tra l'altro sta per vivere una stagione storica e mh è passato in prestito allo alla fine proprio alla fine dello scorso mercato il sei ottobre si è trasferito in prestito secco nella formazione lusitana è arrivato tardi quindi con la stagione già parzialmente iniziata comunque già avviata nonostante questo è diventato praticamente subito un titolare di fatto perché fin qui ha collezionato trentuno presenze due gol ed un assist in campionato più un altro assist in Coppa di Lega non sono numeri sicuramente esaltanti ma vanno fatte le dovute specifiche perché non contano solo i numeri anzi eh va considerato che Joe Mario in questa stagione con lo Sporting ha giocato praticamente ovunque giocato in tutti i ruoli ha fatto il trequartista ha fatto il regista davanti alla difesa quasi il mediano ha fatto la mezzala di inserimento anche un po più statico vi mostro anzi la sua hit map così vi rendete conto eh di di come e quanto ha giocato eh quest'anno eh Joe Mario eccoci qua questa è la sua hit map come vedete che ha giocato tanto a sinistra quanto centrale e a destra quindi veramente un tutto campista eh da questo punto di vista il buon vecchio Joe Mario e eh bisogna anche dire che ha giocato in più ruoli e lo ha fatto comunque bene perché anche a livello di rating cioè di rendimento comunque ha vissuto una buona stagione al di là del numero di assist quindi eh ha avuto una buona buona stagione e eh vi mostro a tal proposito anche il rendimento del sito Huscord che analizza una serie di di dati molto molto profonda e eh come rating per la squadra questo un po' sono i suoi numeri passaggi eh precisione di passaggio 88 per cento due alle aeree ha giocato mille settecentottotto minuti in realtà dovrebbero essere qualcuno in più sì ventidue più tre eh ha giocato qualcosina in più eh ma anzi volevo mostrarvi a livello di rating di squadra la grafica corretta è eh questa qua nello sporting Joe Mario si piace si piazza al decimo posto nel nello sporting come rendimento complessivo quindi eh meglio di lui soprattutto il Pedro Gonsalves e anche Sebastiano Cotes ma eh Joe Mario quindi si piazza al decimo posto con un rating di sei punto novantadue che è un buon risultato sicuramente eh molto molto positivo quindi un rendimento di fatto da titolare e per questo infatti è diventato un titolare della formazione eh dello sporting appunto e mh perché una stagione storica vi stavo dicendo prima e perché quindi questo rendimento può convincere ulteriormente lo sporting a a trattenerlo perché eh lo sporting è sicuramente una società storica molto blasonata molto conosciuta eh ha vinto quest'anno anche la Coppa di Lega ne ha vinte tre negli ultimi quattro anni non vince però il campionato addirittura dalla stagione duemila uno duemila due quindi un eh anche loro guardate un po' anche i corsi ricorsi storici e le coincidenze lo sporting ha diciotto titoli diciotto campionati vinti nella sua storia e l'ultimo vinto nella stagione duemila uno duemila venti duemila uno duemila due quest'anno eh possono finalmente conquistare il diciannovesimo titolo perché nel momento in cui sto registrando questo video stasera tra poche ore giocheranno un'altra partita ma in questo preciso istante lo sporting è primo in classifica a sei giornate anzi a sì a sei giornate eh dalla fine del campionato visto che si deve ancora giocare la sfida contro il Rio Ave di stasera e ha sei punti di vantaggio sulla seconda in classifica quindi vedremo come andrà la partita di stasera però sono veramente vicini piuttosto vicine ad un traguardo storico e dal diciannovesimo titolo che sarebbe un po' come l'Inter in Italia che pure arrivava da un digiuno molto lungo non così lungo ma comunque molto lungo questo traguardo storico vale anche il ritorno in Champions League dove tra l'altro lo sporting non gioca eh dal duemila diciotto quindi sarebbe un trionfo per lo sporting dal punto di vista sicuramente tecnico innanzitutto esportivo ma anche e forse soprattutto economico perché eh gli introiti della Champions sappiamo quanto fanno la differenza soprattutto in questo momento storico che stiamo eh vivendo in Portogallo diciamo che eh diverse fonti quindi si sono già sbilanciate sulla volontà da parte dello sporting di mantenere in blocco il nucleo di questa squadra che si avvicina a questo successo eh storico in vista della prossima stagione in Champions quindi si vorrebbe confermare un po' eh lo scheletro eh della squadra e a tal proposito veniamo alle notizie di mercato eh perché secondo fonti portoghesi lo sporting sarebbe disposto a mettere sul piatto circa dieci milioni di euro per confermare in squadra eh giù a Mario possibilmente spalmabili su più anni appunto per riscattarlo dopo questo prestito dieci milioni allo stato attuale delle cose eh è una cifra che permetterebbe all'Inter di non fare minusvalenza più o meno siamo più o meno al valore e residuo a bilancio del calciatore quindi l'Inter da quello che filtra potrebbe anche accettare sarebbe molto tentata ad accettare anche se non fa una grossa plusvalenza e e forse perché soprattutto la cosa più importante in questa sessione sarebbe uno liberarsi di un esubero chiaramente un calciatore che non rientra più nei piani dell'Inter ma due soprattutto liberarsi di un ingaggio importante questo sarà uno dei principali obiettivi di questo mercato dell'Inter tagliare questi rami secchi e soprattutto ridurre il monto ingaggi soprattutto se il calciatore non rientra nei piani e ehm Gio Mario prende guadagna attorno ai due virgola sette milioni di euro netti a stagione che sono tanti soldi per un giocatore che non rientra più nei piani lo sporting secondo indiscrezioni pagherebbe di questi due virgola sette milioni un solo milione il resto è a carico dell'Inter quindi capite bene che liberarsi del calciatore sarebbe veramente un affare il problema riguarda il fatto che lo sporting fino a questo momento anche per effetto del fatto che non sono in Champions da qualche anno hanno un tetto salariale un tetto di stipendi che dovrebbe aggirarsi attorno ai due milioni se non ho capito male e eh e quindi questo ingaggio di Gio Mario sfora per cui Gio Mario si abbassa l'ingaggio prolungando magari l'accordo su più anni visto che tra l'altro con l'Inter è in scadenza di contratto tra un anno quindi ci potrebbe anche stare spalmarselo su più stagioni eh anziché appunto restare con i due virgola sette milioni attuali per un solo anno ancora e eh oppure si va a ricorrere diciamo a qualche formula creativa però mi sembra difficile perché bisognerebbe passare per un rinnovo di contratto con l'Inter cioè non si può fare un prestito con obbligo di riscatto tra un anno se Gio Mario è in scadenza di contratto nel duemilaventidue diciamo che comunque al momento da quello che filtra soprattutto da fonti portoghesi e da colleghi portoghesi e abbiamo anche sentito eh sembrano esserci buone possibilità finché Gio Mario resti allo Sporting eh soprattutto se lo Sporting dovesse vincere il campionato e tornare in Champions eh però c'è un piccolo rischio anche aggiuntivo cioè che lo Sporting possa provare a portare avanti la trattativa dovendo sborsare dei soldi cash o quasi per il calciatore e provi a strappare a strappare una cifra al ribasso il più bassa la più bassa possibile quindi c'è il rischio che possa diventare una trattativa che si prolunga un po' durante l'estate l'Inter invece ha bisogno di plusvalenze possibilmente subito prima della chiusura di questo bilancio allora occhio agli scenari alternativi che già in questi anni l'Inter ha fatto ricorso a questi scenari alternativi più e più volte e quindi attenzione alle possibilità eh di scambio in Spagna si sono mosse il Betis ma soprattutto l'altra squadra di Siviglia il Siviglia appunto con alcune fonti spagnole anche nelle ultime ore hanno parlato di una possibile clamorosa idea di scambio che prevede Gio Mario al Siviglia con il Papu Gomez all' Inter Papu Gomez che sappiamo essere stato obiettivo dell'Inter anche durante lo scorso mercato di gennaio quando poi ha volato effettivamente in Andalusia sta facendo bene al Siviglia quindi il Siviglia potrebbe anche non essere così disposto assolutamente a cederlo però attenzione perché al Siviglia Gio Mario interessa e Papu Gomez all'Inter interessa è uno scambio che dal punto di vista tecnico farebbe comodo quindi più o meno ad entrambi e a livello economico lo stesso perché gli ingaggi sono simili Papu Gomez essendo anche più vecchio tra l'altro diciamo Mario circa cinque anni in più se non vado errato eh guadagna tre milioni di euro all'anno contro i due virgola sette attualmente percepiti da Gio Mario e eh i valori dei cartellini diciamo in queste operazioni poi si possono più o meno sistemare e se il Papu Gomez è stato pagato sette milioni e mezzo a gennaio Gio Mario come dicevamo per non fare minus valenza servono almeno dieci milioni di euro diciamo che anche a livello di valutazione dei cartellini siamo siamo vicini a proposito di scambi però arriviamo alla suggestione che vi avevo anticipato all'inizio del video arriviamo al eh l'ipotesi da tenere d'occhio non è un non è una notizia almeno per il momento è un'ipotesi quindi da tenere sotto osservazione e riguarda la notizia del momento ovvero il ritorno di Murigno in Italia precisamente alla Roma che ci ha lasciato tutti un po' ci ha colpo un po' di sorpresa vi vado a condividere un vecchio articolo dal nostro sito www.passioneinter.com in cui Murigno ai tempi del Manchester United aveva detto eh mi è sempre piaciuto si riferisce a Gio Mario al Manchester United perché no eh andiamo a recuperare mi piacerebbe che rimanesse in Inghilterra aveva detto eh per sarebbe una buona opzione ma poi quando gli viene detto del Manchester United dice perché no il West Ham ai tempi giocava al West Ham è un club storico che vuole crescere Gio Mario si stava adeguando lui è uno che pensa agisce velocemente e mi è sempre piaciuto questa è la dichiarazione quindi di qualche stagione fa di di Gio Mario di Murigno scusate su Gio Mario e Murigno che adesso arriva alla Roma ai tempi l'ipotesi Gio Mario in casa Manchester United era stata valutata per sostituire Mkhitaryan Mkhitaryan adesso può lasciare la Roma a tutti gli effetti ci sono voci molto calde su una partenza dell'armeno e quindi chissà che con qualche anno di distanza non possa concretizzarsi questo matrimonio tra Murigno e Gio Mario e e chissà appunto che non possa concretizzarsi uno scambio questa è l'ipotesi la suggestione che vi invito a tenere d'occhio perché Inter e Roma si sono tornati a parlare ormai da un po' di tempo e lo sappiamo c'è stato questo tentativo di scambio Sanchez Geco già durante lo scorso mercato di gennaio non è andato a buon fine per vari motivi ma le società ci stavano anche ragionando quindi considerando questo interesse di Murigno per Gio Mario considerando che Geco dall'altra parte a Conte fa sempre gola e piace tantissimo è un'ipotesi da tenere lì che vi metto sul tavolo e quindi attenzione alla pista Roma eventualmente per Gio Mario se non dovesse concretizzarsi la permanenza allo Sporting fatemi sapere che cosa ne pensate anche di questa pista se secondo voi è percorribile la terremo d'occhio fatemi sapere soprattutto se avete visto il video fino a qui e sperate che l'Inter venda Gio Mario definitivamente scrivetemi nei commenti Gio Mario via e mettetemi anche l'emoji del serpente il serpente interista che scaccia Gio Mario dall'Inter dopo una serie di prestiti magari a titolo definitivo quindi Gio Mario e l'emoji del serpente così se avete visto il video fino fino alla fine come fanno i fedelissimi e vi ringrazio di nuovo per essere stati con noi ringrazio il nostro Alessandro Costato il nostro sostenitore se anche voi volete entrare a far parte del nostro club esclusivo vi aspettiamo su patreon.com slash passione inter oppure su youtube tasto abbonati che trovate qui sotto oppure anche il link in descrizione per chi non dovesse vedere il tasto abbonati grazie a tutti